Per poter far sì che i nostri territori abbiano un ricco futuro è chiaramente indispensabile investire sui giovani, investire sulla comunità giovanile, quindi bisogna stare attenti a non sottovalutare, non ritenere futili determinate iniziative, quale può essere una festa. Noi non siamo una grande città, quindi abbiamo la necessità di diventare dei grandi paesi, quindi se non si scommette sui giovani non si può avere un futuro.